vai buongiorno a tutte e a tutti buon venerdì 9 agosto buon inizio di fine settimana per chi magari si concede una qualche vacanza una forma di relax non necessariamente andando da qualche parte a inquinare nostra madre terra allora ciao Alina buongiorno siamo arrivati al capitolone sì, iniziamo oggi il capitolo 18 sulla multidimensionalità della sofferenza umana che è diviso in più capitoli quindi piano piano cominceremo ad affrontarli uno alla volta entriamo nel cuore della complessità dell'opera e del pensiero di Udoli esatto che poi noi dovremmo ovviamente reinterpretare esperienzialmente attraverso quello che possiamo fare nelle nostre comunità locali sì, ci proviamo anche se non ci proviamo da ciò che non sapremo fare avremo fonte di apprendimento per migliorare giusto bene, dai, iniziamo allora la famiglia con disturbi complessi e difficili nei club degli alcolisti in trattamento la famiglia con disturbi complessi e difficili nei club sì sempre più presenti già già all'inizio dello sviluppo dell'approccio ecologico sociale e dei programmi territoriali per i problemi alcol correlati basati sulla comunità multifamiliare dei club si parlava della possibilità di utilizzare lo stesso modello per altri problemi cronici soprattutto quando si tratti di comportamento a rischio e in particolare quando tale comportamento si combina con un problema alcol correlato questo era dovuto anche al fatto che sempre più diventava chiaro che quasi non esistono i problemi alcol correlati che non siano incrociati con altre difficoltà casualmente o causalmente incrociate con il problema alcol correlato quindi la complessità è la regola non è l'eccezione con l'andare del tempo si sono verificati i problemi che più spesso venivano combinati con l'alcolismo tra essi l'uso contemporaneo di altre sostanze i problemi psichici gravi tra parentesi primari e secondari e i comportamenti autodistruttivi come ad esempio il comportamento degli alcolisti senza fissa dimora citati nella letteratura con il termine anglosassone skid row l'uomo sia che il suo comportamento stia nell'ambito della normalità sia che provochi delle difficoltà a se stesso o alla propria famiglia non può comunque essere visto in una sola dimensione in altre parole non si può guardare a tutto il suo comportamento a tutta la sua vita come effetto del suo legame con gli alcolici la multidimensionalità è alla base della sua vita emozionale intellettuale spirituale religiosa e politica in una parola culturale quindi questa affermazione di guardare un insieme complesso di variabili che caratterizzano l'essere umano dovrebbe indurre a ridefinire anche le forme interpretative della sofferenza umana non soffermandosi solo su un dettaglio parlavamo ieri alla scuola no? l'eradicazione del trauma lì si troverebbe la genealogia di tutti i problemi un pensiero semplificato e a mio parere pericoloso perché disconosce la complessità delle variabili in gioco beh certo è la questione dell'uomo ha una dimensione famosissima anche che dà il titolo a un libro molto importante del secolo scorso ed è un concetto che sottolinea tantissimo anche Edgar Morin che è un po' riferimento anche del lavoro dei club in effetti su uno dei saggi di Edgar Morin che si chiama mi pare sfida le sfide della complessità una cosa del genere lui sottolinea proprio il fatto che l'essere umano nella sua componente sociale biologica psicologica emotiva e tutto quello che vogliamo mettere non va affrontato e non va conosciuto nelle sue parzialità con discipline diverse che non comunicano tra di loro in queste dimensioni separate ma queste dimensioni vanno viste come facce della stessa unità che compongono la persona e che comunicano tra di loro e si interfacciano e si influenzano tra di loro come dice qui Udolin cioè non è che tutto si può guardare tutto il comportamento dell'essere umano si può guardare come effetto di una di queste dimensioni che in questo caso è l'alcorismo ma secondo te i club e i loro programmi l'esperienza esistenziale della partecipazione a un club oggi è in grado di superare l'inghippo che è presente nella frammentazione per accedere a questa visione molto complessa perché noi siamo forgiati dalla cultura della frammentazione certo io penso che il club sia per sua definizione un luogo dove queste dimensioni si ricompongono in una certa maniera si ricompongono perché già di base cerca di ricomporre anche solamente le relazioni fondamentali della tua vita perché invita tutti ad arrivare assieme e quindi già questa richiesta di ricomposizione è alla base di come poi i problemi vengono affrontati perché non è un problema della persona e della sua biologia quindi del suo corpo perché i problemi alcol correlati magari hanno degli effetti sulla sua salute prettamente fisica o mentale ma vengono affrontati dal punto di vista sociale lavorativo come abbiamo detto prima culturale fisico mentale da tutti i punti di vista e quindi il club da questo punto di vista secondo me risponde benissimo a questa necessità di ricomporre queste dimensioni soprattutto in questo momento che forse non ci sono altre alternative sulla piazza mettiamola così proseguiamo se si combinano problemi di una delle sette dimensioni con quelli alcol correlati possono scaturirne sofferenze assai gravi quindi definisce anche un numero di dimensioni sette ah no scusate dette delle dette dimensioni sì è un lapsus freudiano questo sì le emozioni cioè le dimensioni che lui cita sono quelle emozionali intellettuali spirituali religiose e politica e poi dice in una parola culturale per quindi sono anche molto altro sì il riscontro che abbiamo nei club è che essi attraggono le famiglie gravate da problemi che sono anche multidimensionali le stesse difficoltà che molte persone non alcoliste possono gestire da sé e con la famiglia senza aiuto esterno si complicano al punto da spingere la famiglia ad arrivare al club quando si combinano con un problema alcol correlato sembra quasi una fortuna qui incontrare un problema alcol correlato sì è una fortuna che hai uno spazio esistenziale nella comunità nel quale magari qualcuno ti dà anche ascolto magari non è preparatissimo però se non altro cerca in qualche modo di porre attenzione alla complessità della situazione tutti i problemi che si riscontrano nella vita individuale nella famiglia o nella comunità non sono necessariamente malattie nel senso tradizionale ma tipi di comportamento stili di vita che prevalgono in una persona in una famiglia in una comunità il programma ecologico sociale e qui tra parentesi dice psico medico sociale che era la prima definizione dei programmi udolineani con queste tre componenti la componente psicologica biologica quando si riferisce all'aspetto medico e alla componente sociale si siamo sempre riferendoci elementi sarebbe sufficiente esatto siamo sempre riferendoci a queste dimensioni dell'umano a queste multidimensioni quindi dice il programma ecologico sociale offre un approccio efficace per la maggioranza degli alcolisti quando i programmi alcologici territoriali sono al loro inizio entrano nei club gli alcolisti tra virgolette difficili nelle fasi più avanzate molti già in fase irreversibile dice qua addirittura ormai nel senso che non c'è un granché da fare però qualcosina si può fare sempre certo le famiglie e le persone che accompagnano le persone con problemi spesso richiedono il loro inserimento nel club in quanto alcolisti qualche volta la richiesta di un inserimento viene fatta dopo che ogni altro tentativo è fallito queste famiglie con problemi complessi una volta entrate nel club provocano spesso dei problemi se non sono osservate certe regole per il loro inserimento l'operatore e i membri hanno chiaro che non si tratta di alcolisti primari di alcolisti per i quali il legame specifico con il bere è il problema principale non si tratta infatti di alcolismo semplice non complicato primario in relazione a questi casi si devono porre due quesiti fondamentali e lui li pone sotto forma di domande uno la metodologia ecologico sociale l'approccio complesso nel club degli alcolisti in trattamento può essere utile anche per altri disturbi cronici del comportamento domanda cruciale che ancora aleggia che implica a mio parere la necessità di una costante formazione e aggiornamento dei servitori insegnanti e anche dei cittadini che frequentano la realtà del club delle persone che frequentano la realtà del club le quali hanno una caratteristica comune col mondo professionale il riduzionismo interpretativo su questo vanno molto d'accordo seconda domanda i club esistenti possono essere usati per i casi complessi difficili e complicati e se sì come quindi queste sono le due domande alle quali poi si va a tentare di rispondere lungo i prossimi sottocapitoli allora potremmo anche fermarci qui cercando noi di sviluppare queste domande perché questo testo è scritto 30 anni fa in questi 30 anni molte cose sono rimaste esattamente uguali alcune sono peggiorate alcune sono migliorate e alcune semplicemente si sono modificate per esempio la potenza della presenza di internet allora non era così permanente adesso lo è e molto spesso le famiglie anche multiproblematiche non solo vengono da molteplici esperienze di accesso ai servizi ma si sono fatte anche le autodiagnosi lo dice internet e trovano forme pubblicitarie attraverso le quali esperti promettono maglie e monti e il club devono fare i conti anche con questo sì che è poi un po' quello che si diceva alla scuola del giovedì di ieri il problema è che chiaramente le comunità nelle quali i club operano e sono inseriti sono cambiate moltissimo da quando i club prendono piede in Italia e forse bisognerebbe tentare di pensare ad una modalità di esistere dei club che abbia a che fare anche con questo cambiamento spesso nei congressi e nelle altre occasioni formative ricorre molto la questione dei social network delle tecnologie e questo che dicevi tu e forse bisognerebbe imparare a ad autoformarsi anche su questo perché no senza cioè mi viene da dire senza paura senza pensare di sostituirsi a a chissà quale forma di di professionismo specifico che deve poi risolvere quei problemi specifici però sicuramente in queste domande cioè se i club possono essere usati per i casi complessi difficili e complicati oramai verrebbe da dire quali casi non sono complessi difficili e complicati che arrivano al club senza la descrizione quella che dice Udolin dell'alcolismo quello primario si è cambiata anche la modalità di interpretare di interpretare gli eventi no club hanno maturato una diversa sensibilità però quello che manca oggi è una armonizzazione tra l'esperienza del club che è fondante non solo fondamentale ma è fondante e un sistema di servizi di cura che siano armonizzati con la visione del club creiamo confusione nelle persone nella gente perché se l'esperto dice l'opposto di quello che dice il club il club viene considerato una bella esperienza ma non particolarmente competente sul piano scientifico e professionale che è falso perché l'esperienza del club ha valenza professionale e scientifica quello che poi manca però è la necessità di un sistema di servizi comunitari in questo modo rompiamo la dicotomia pubblico privato comunitari facilmente accessibili e che in qualche maniera siano sostenuti dalle persone dove si trovano delle risposte non riduzioniste ed esaustive ma un invito costante a rimanere nel percorso dell'ecologia sociale antropospiritual è un grande sogno questo che dobbiamo imparare a coltivare sempre però in una prospettiva di cambiamento della cultura perché oggi di servizi privati ce ne sono anche tanti forse rischiamo che ce ne siano ancora di più di quelli pubblici ma vi è una convergenza tra pubblico e privato nel rimanere nell'albero di una interpretazione riduzionistica stigmatizzante neomanicomiale invece si muovono su una prospettiva esattamente opposta comunitaria comunitaria significa antimanicomiale accogliente competente e questo implica che dobbiamo investire di più nell'aggiornamento nella formazione nella ricerca riindicato la necessità di costruire centri studi addirittura avevi immaginato un'accademia una libera università le scuole di approfondimento tutto disperso dobbiamo riprendere anziché stare qui a litigare su chi è il presidente dell'associazione dovremmo investire risorse per garantire la presenza concreta del club con i loro programmi chiaro che senza i club i programmi dei club non possono esserci è chiaro che però i programmi devono riconoscere che è essenziale e fondante la presenza del club e questo cambia anche la prospettiva della visione professionale sì quante volte mi viene in mente al club quando c'era magari una ricaduta un po' più pesante o una situazione che sembrava non trovare una via d'uscita a un certo punto anche i membri dicono eh ma qua bisogna mandarlo a curare bisogna fare qualcosa bisogna mandarlo da qualcuno e io pensavo ma non ci è già ma non ci è già in un programma di cura non sta già venendo qua al club non siamo già qui per tentare assieme di trovare un altro modo di stare in questo mondo che non sia quello della disperazione eppure solo la partecipazione al club le persone spesso la sentono così come come dicevi tu un accompagnamento qualcosa che sì vabbè forse mi occupa un po' il tempo tipo terapia occupazionale no però poi per i problemi seri quando arrivano quando il gioco si fa duro come si suol dire bisogna andare da chi ti propone una soluzione bella seria e spesso qual è l'avvicinamento del club nei confronti di tutto ciò ci impegneremo a investire a partire dalle nostre piccole esperienze locali per una armonizzazione tra partecipazione attiva delle persone con la primaria disponibilità a mettersi in discussione tutte e tutti e contemporaneamente rendere accessibili i servizi di ecologia sociale e antropo spirituale ce n'è molto bisogno io credo va bene va bene allora buona giornata a tutte e a tutti buona giornata ciao ciao ciao